Ciao gentaglia, sono asciuta a HeyZio e questo è Breaking Italy, lo show che viene andata lunedì al venerdì nel quale parliamo di cosa succede nel mondo, almeno quando non riesco a pubblicarlo, perché succede anche questo, so che non ve ne siete accorti, ma qualche volta riesco a non pubblicare. Il che significa che ho bisogno di una vacanza e aspettatevi che prima o poi vi dica ok questa settimana non mi vedrete e non mi sentirete, infatti da persona stanca quale non sono proprio per niente, sono riuscito a cancellare per sbaglio dalla SD card nella quale erano contenute le ultime tre puntate di Parliamone per questa settimana, Fabiana me ne vorrà, voi me ne vorrete, abbiate pazienza, la faccia che vedete qui sono io, ma anche la redazione sono io e anche il mondo. Sono io quindi, è ovvio che le cose per citare Boris vengono fatte a cazzo di cane, la prima notizia della quale volevo parlare oggi non è esattamente una notizia, ma per farmi perdonare volevo farvi sorridere, dato che ieri, e ne avevo parlato nel Breaking Italy di ieri che non sono riuscito a pubblicare, ho scoperto grazie a un articolo di giornalettismo un nuovo trend, una nuova moda che si chiama pre-diciottesimo, finalmente è qualcosa che abbiamo inventato noi e non è la stranezza che arriva dagli Stati Uniti, no, arriva dall'Italia, che cos'è? Il pre-diciottesimo è un video pubblico su YouTube, quindi mi prendo la libertà di estrapolarne alcuni pezzi e mostrarveli, che evidentemente degli amorevoli genitori regalano i propri figli quando questi stanno appunto per compiere la maggiore età, ed è una sorta di video glamour, con dei musichini dietro che mostrano questi ragazzi che fanno cose, tipo camminare in delle orvine in abito, fare degli sguardi seducenti o wannabe seducenti, insomma, belle cose. In descrizione trovate il link all'articolo che mi ha fatto trovare questa cosa, ma basta che andate su YouTube e cerchiate pre-diciottesimo per rendervi conto che c'è un mondo di questi video, alcuni vecchi anche di tre anni, quindi è un trend che è già stato lanciato da un po', non è una novità incredibile, però vorrei sapere, signora Contessa, che cazzo è questa roba? Perché? Perché la nostra società è così ossessionata dall'idea dell'apparire, dall'idea del palcoscenico, che riusciamo ad inculcare questo modello, che per quanto mi riguarda è proprio figlio illegittimo della TV con i tronisti e il grande fratello e tutte queste minchiate qui, nei ragazzi. Perché io non ce l'ho con i ragazzi, io ricordo di aver avuto 17 anni, e uno, vi assicuro che nessuno di voi avrebbe voluto vedermi in un video del genere, perché ero bruttissimo, ma io un video del genere probabilmente lo avrei voluto, mi sarei sentito figo ad averlo, però poi il tempo passa e ricordiamoci che quello che viene messo su internet poi non se ne va più da internet e se io fossi obbligato a vedere un me stesso, dodici anni fa, con la camicia semi-aperta a correre in spiaggia non starei bene, probabilmente a ogni minuto di video avrei qualche dolore intercostale, qualche dolore interno. Quindi date un'occhiata a questa roba, però promettetemi che non scriverete minchiate nella sezione dei commenti sotto quei video, ricordatevi che sono ragazzi come voi, che hanno fatto degli errori più grandi dei vostri probabilmente, però sempre ragazzi come voi. Parlando di altre cose, e prima che lo dica qualsiasi di voi lo dico io, che notizia del cazzo, capirete ora perché? In Cina è stato effettuato il primo trapianto di pene, ora non è la prima volta che effettivamente un pene, che viene separato dal suo corpo originario, viene riattaccato nel corpo, riacquistando tutte le funzionalità. Quindi se qualcuno di voi in questo momento fosse nel panico e stesse cercando disperatamente su YouTube un modo per riattaccarsi il pene, e sia finito in questo video, ciao, benvenuto, questo è Breaking Italy, ci sono circa 350 altri video che puoi guardare. E dopo averli guardati potrei andare in un ospedale in Cina, dove appunto i medici non solo sarebbero riusciti ad attaccare il primo pene di una persona, in un'altra persona, ma farlo bene in modo che il membro sia funzionante. Il paziente è un uomo di 44 anni che ha ricevuto l'organo, l'argano, dal ragazzo molto più giovane di lui, un ventenne in coma che ha consentito, non so se lui o i suoi genitori, di fare questa donazione, ovviamente non è che sono andati lì e gliel'hanno tagliato. Il pene è stato attaccato su quest'uomo e tutto è andato bene, questo è un grande passo per la medicina che è riuscita a fare una nuova cosa, che prima non si era mai riuscita a fare. Comunque la cosa ancora migliore è che l'uomo poi si è fatto togliere quel pene. E apparentemente, infatti, la cosa lo ha scioccato a livello psicologico, non solo lui ma anche la moglie, quindi non so che pene gli avete attaccato. E se lo è fatto rimuovere? E la cosa apparentemente non è così strana, anche un altro uomo australiano, al quale era stata impiantata la mano di un altro uomo, dopo un po' era andato incontro a problemi psicologici che ancora non conosciamo bene, perché questo tipo di trapianti sono nuovi, ma apparentemente non riconoscendo la mano come sua ha preferito farsela rimuovere e rimanere senza mano. O, in questo caso cinese, senza pene. Quindi, in definitiva, la medicina fa cose grandiose, ma l'uomo rimane sempre l'uomo con tutte le sue problematiche. Comunque parliamo anche di buone notizie, così faccio anche contenti. Molti di voi che mi hanno chiesto perché non ne stai parlando, è molto importante. Sì, ora ne parlo che la cosa è ufficiale. Difficilmente parlo di notizie quando ancora non sono complete, in un certo senso, specie se parliamo di leggi che devono avere un iter, quindi devono passare per il Senato, il Parlamento, beh, beh, beh. Però è finita e parliamo della Francia e della legalizzazione dei matrimoni per omosessuali e dell'adozione per coppie omosessuali. Oddio, anche il mondo sta cadendo, anche in Francia sarà possibile adottare per coppie omosessuali dei bambini? Oh nooo... Non succede niente, non succede niente. La Francia è infatti il quattordicesimo paese nel mondo. Quattordicesimo, ci sono stati altri tredici paesi che hanno già fatto questa cosa, che dice sia i matrimoni omosessuali. L'adozione è più complicato perché alcuni paesi stanno ancora dibattendo questa cosa, altri l'hanno già attuata, come ad esempio l'Olanda, che peraltro ha aperto i matrimoni omosessuali nel 2001, quindi parliamo di dodici anni. Io avevo diciassette anni, non avevo nemmeno la patente e stavo probabilmente giocando con la PlayStation 1 quando questo succedeva. No, come non detto, c'era già la PlayStation 2. Ma il punto è in undici anni non abbiamo visto un boom di bambini gay invadere le strade. Quindi smettiamola di dire minchiate perché non vogliamo diventare quelle persone anziane tutte rincoglionite che adesso vengono considerate rincoglionite e sino a qualche decina di anni fa esprimevano un giudizio, ovvero i nerd non sono come i bianchi, sono più stupidi e rubano. Perché adesso quando vedi qualcuno che dice una cosa del genere dici questo qui è razzista e deficiente. E probabilmente quando io sarò anziano i miei nipoti danno questa cosa per scontata. Le persone gay si sposano come le persone eterosessuali si sposano e adottano dei figli, tutto a posto. Ma apparentemente non tutti la pensano così perché in Francia ci sono state fuori dal Parlamento delle forti manifestazioni che hanno portato a scontri con la polizia, lanci di oggetti, lanci di fumogeni dall'altra parte e un sacco di arresti. Quindi applausi a queste persone che ci sono fatte arrestare manifestando contro quello che secondo me è un diritto inalienabile di una persona, ovvero amare. E lo sapete quanto odi utilizzare questa parola, però è vero. Amare, semplicemente. Comunque se volete saperne di più sulla mia posizione in merito e su quella di Fabiana, la ragazza che con me presenta ogni giorno, a parte questa settimana, parliamone. C'è una puntata dedicata in merito. Il 20 aprile un gruppo di animalisti, di attivisti degli animali, di provvita eccetera eccetera, non so come chiamarli, ha invaso il Dipartimento di Farmacologia di Milano come protesta contro la sperimentazione animale. Alcuni di voi mi hanno chiesto spesso qual è la mia posizione rispetto alla sperimentazione animale e io sono assolutamente favorevole. Ho spiegato quale sia la differenza tra sperimentazione animale e vivisezione, che è una cosa che non esiste più da un sacco di tempo. E mi ero anche detto a favore della sperimentazione soltanto per fini medici e non per fini di creazione di cosmetici, che è peraltro divenuta illegale in Europa a marzo. Comunque questi attivisti non sono d'accordo con la sperimentazione, a prescindere, e sono entrati nel Dipartimento di Farmacologia e cinque di queste persone, un nucleo piccolo, sono riuscite ad entrare nei laboratori e hanno rubato moltissime cavie da laboratorio. Si parla di centotopi e un coniglio. E io volevo prendere due secondi per scagliarmi contro questo gesto che è molto grave ed è pressoché passato sopra la testa di moltissime testate nazionali o comunque dei media in generale, che certo hanno delle cose più importanti o che comunque fanno più notizia delle quali occuparsi in questo momento, però è comunque una cosa importante. Innanzitutto perché è un atto di vandalismo, perché è stata violata una proprietà privata e il tutto è stato assolutamente inutile, anzi controproducente. Queste persone hanno letteralmente buttato anni di ricerca e migliaia di euro impiegati nella ricerca dell'università. E già in Italia diamo pochi soldi alla ricerca. Se poi i soldi vengono dilapidati da dei vandali che entrano per salvare gli animali, male. Inoltre questi animali non verranno salvati, infatti. Le cavie sono cavie, ovvero animali abituati a stare in un ambiente asettico, in delle gabbie, modificati in qualche modo. Quindi non sono pronti, non sono abituati a vivere all'aperto e non lo saranno mai. Si ammaleranno e moriranno. E non lo dico io, lo dicono i ricercatori e lo dicono i ragazzi dell'università che il giorno dopo, il 21 aprile, hanno manifestato il loro diritto di fare il loro lavoro, ovvero ricerca. Ovvero quella cosa che è così lontana e che nessuno di noi tocca sino al momento nel quale non abbiamo tra le mani un farmaco, come uno di quelli che usiamo tutti i giorni. Magari perché abbiamo mal di testa o magari perché ne abbiamo bisogno per sopravvivere. Arrivo tardi su questa notizia perché lunedì e martedì non sono riuscito a pubblicare Breaking Italy, però volevo esprimere la mia totale solidarietà verso questi ragazzi che svolgono un lavoro importantissimo. Ma questo, gentaglia, è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato. Grazie mille per ritornare qui tutti i giorni a cercare Breaking Italy attivamente, anche se YouTube cerca di impedirvi in tutti i modi di guardarlo. Andate a cercarlo su Facebook, andate a cercarlo sul mio sito, che trovate in descrizione, andate dappertutto. Io vi ringrazio davvero tanto, alle volte Breaking Italy non c'è, però I love you long time. Faccio quello che posso. Sono solo piccolo uomo. Bellissimo, ma piccolo. Ci vediamo domani alle 18, promesso.